Una risposta severa perché gli episodi di per sé sono stati, a mio parere, gravissimi. Quando si attentano a quelli che sono i valori dello sport, allontanando la gente dal campo di calcio, dagli stadi, dalle strade adiacenti agli stadi, quando questi episodi sono tali non possono che meritare una risposta severa. E quindi sono dei provvedimenti molto duri, perché allontanare per otto anni non è poco. A parte l'arresto in flagranza di ferita nelle 48 ore dopo gli eventi, bisogna invece ritornare con serenità allo stadio, allontanando queste frange. Noi lo facciamo applicando le norme, con i poteri che mi sono consentiti dalla legge. Gli altri lo possono fare veramente riparginandoli, perché se sono in minoranza non vanno lontano. Volevo precisare che parliamo non solo dei tifosi del termo, perché alcuni provvedimenti hanno interessato anche i tifosi della Rossetana. Questi nostri provvedimenti devono servire da monito, altrimenti non serve. Io sono convinto che servirà, che sarà un'opera di prevenzione. Se non c'è lo scurantismo ideologico, si va avanti. Ecco perché deve essere la parte buona, che è la maggioranza, a isolare la minoranza di questa gente qui. Che io ripeto, definisco teppisti. Non hanno nulla a che vedere col tifo, assolutamente niente.